Mi chiamo Lucia Landoni e sono nata a Castellanza, in provincia di Varese, nel 1985. La mia grande passione è la scrittura e vorrei trasformarla in un lavoro. Da bambina divoravo romanzi e ero convinta che un giorno ne avrei scritto uno mio. Durante gli anni del liceo classico ho smesso di immaginare storie per dedicarmi al racconto di quelle vere. La decisione di diventare giornalista è stata l'ovvia conclusione di questo percorso. Mi sono laureata in linguaggi dei media all'Università Cattolica di Milano. Con un curriculum dedicato all'informazione. La mia prima vera esperienza pratica è stata la prealpina, il quotidiano locale più diffuso dalle mie parti. Dopo la laurea ho affrontato l'esame di ammissione al Master in Giornalismo della Cattolica. Quest'estate ho passato tre mesi di stage presso la redazione milanese del giornale. Mi interessano la cronaca e gli spettacoli, ma sono aperta a qualsiasi settore dell'informazione. L'importante è poter scrivere.